Radio Speranza Notizie Carapenne da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza. Lutero oggi si scandalizzerebbe di vedere una chiesa luterana, oggi sarebbe un fautore dell'eucominismo e si stupirebbe della divisione tra cristiani dopo cinque secoli. L'ha detto il teologo valdese Paolo Ricca che ieri è intervenuto sul tema cosa riformerebbe oggi Lutero nell'ambito della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ricca che è intervenuto al comune di Pescara ha definito positivo il suo bilancio sull'ecumenismo, a suo avviso ancora di minoranza ma insediatosi in un numero crescente di persone con maggiore disponibilità di incontrarsi nel popolo cristiano che nell'ufficialità delle chiese. Il teologo valdese ha anche sostenuto che oggi Lutero chiederebbe alla società se davvero può sussistere una società senza fede. Ne parleremo a servizio interviste, la nostra rubrica non da oggi alle 18.15. I ritardi dei progettisti che indugiano nel consegnare le documentazioni integrative ai progetti aumentano sempre di più fino a pesare in maniera determinante sull'effettiva ricostruzione post-sisma. A denunciare l'impasse è il dirigente dell'ufficio speciale per la ricostruzione, Ragnero Fabrizi. Ritardi che riguardano 200 progetti per un totale di circa 300 milioni di euro, il 30% dei quali ricadenti nel centro storico dell'Aquila. Allo studio, con gli ordini professionali, c'è anche un meccanismo che preveda di incidere sulla mancata presentazione delle integrazioni dei progetti, per esempio con penalità per i tecnici ritardatari. Un rallentamento che preoccupa il dirigente dell'ufficio speciale in una fase molto importante della ricostruzione che comincia a riguardare i centri storici delle frazioni Sinora-Fanalino di Coda. Ammonta a 106.122.170 euro la quota di risorse del Fondo Statale per il Trasporto Pubblico assegnata alla Regione Abruzzo con il decreto di ripartizione anticipata firmato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e destinata alla copertura della spesa corrente dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Il plafond complessivo è pari a 4 miliardi 900 milioni di euro ed è stato aumentato di circa 140 milioni rispetto al fondo precedente. Si tratta di un atto che consentirà dall'inizio dell'anno di avere a disposizione risorse certe distribuite in quantità maggiore e in tempi più rapidi per il trasporto pubblico locale. È stata infatti applicata una nuova modalità di fornitura del fondo che permetterà alle regioni di avere a disposizione già da gennaio l'80% delle risorse spettanti mentre la restante quota del 20% sarà erogata a fine anno. Forum H2O e SOA, stazione ornitologica bruzzese, svelano quella che definiscono la clamorosa carta e lo studio attesi da 12 anni. Si evidenzia un fortissimo rischio per il Gran Sasso e le sorgenti del Pescara. Fascia di rispetto attorno alle captazioni di laboratori di chilometri e non di 200 metri, come avevamo previsto. Ora adottare tutte le misure per la salvaguardia degli acquiferi strategici senza ulteriori ritardi e omissioni. Nel frattempo, il 50% delle falde fuori dagli standard comunitari, dicono gli ambientalisti. Domani mattina stesso i tecnici del Comune di Pescara effettueranno nel sopralluogo a Pescara Vecchia che attualmente non è oggetto di lavori di rifacimento ma di una manutenzione straordinaria delle parti ammalorate. Invece, da amministratore della città, mi sarei aspettato qualche richiesta in più per come era ridotta dopo vent'anni la pavimentazione in pietra di Brac piena di buche ancora visibili a tutti nelle parti che non sono state ancora oggetto dei lavori. Comeppure mi sarei aspettato in questi anni una allevata di scudi contro i San Pietrini che da oltre un ventennio sono presenti nelle parti laterali di Corso Mantonè e in tutta Piazza Unione. Lo ha detto il vice sindaco di Pescara, Blasioli dopo la diffida annunciata dall'Associazione Carrozzine Determinate per quanto riguarda i lavori in corso proprio nel Corso Mantonè nella zona cioè di Pescara Vecchia. Tra meno di dieci giorni presso l'ufficio anagrafe di Palazzo Baldoni a Montesilvano sarà possibile richiedere la carta d'identità elettronica. Il nuovo documento, una tessera dotata di microprocessore contiene le informazioni per verificare l'identità del suo titolare. comprese foto e impronta digitale. La nuova anagrafica arriva dopo una sperimentazione durata alcune settimane. Il cittadino potrà richiedere la CIE cioè la carta d'identità elettronica nel caso di primo rinascio o sostituzione di documento scaduto, deterioramento, smarrimento o furto del documento ancora non scaduto. Una volta richiesto presso l'ufficio anagrafe il documento elettronico verrà emesso entro sei giorni lavorativi direttamente dal Ministero dell'Interno e sarà recapitato all'indirizzo indicato all'atto della richiesta ossia l'abitazione dell'utente o lo sportello del cittadino del Comune di Montesilvano. In questo secondo caso la carta d'identità elettronica potrà essere ritirata dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e 30 e il giovedì dalle 15 e 30 alle 17 e 30. Oggi è mercoledì 24 gennaio e la Chiesa celebra la memoria di San Francesco di Sales vescovo e dottore della Chiesa e patrono dei giornalisti. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Elia Tringolo. E siamo al meteo oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 6 a 12 gradi sulla costa e da 7 a 11 gradi nelle zone interne venti deboli il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio in studio Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne a voi tutti grazie per averci seguito. Buona giornata Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica a presto Grazie.